RADOX ma che schifo fai Ma chi è RADOX I miei amici hanno detto di guardate il video che hai messo ieri E abbiamo ascoltato tutto di quello che hai detto E abbiamo perso alla tre partita Chiudi il canale fallito E quindi qualcuno come sempre perde per colpa mia E oggi andremo a utilizzare le stesse comp che vi ho fatto vedere nel video di ieri E vediamo Intanto cosa abbiamo nello shop Begassa gratuita dove ovviamente ci sarà E quindi eccoci qua col primo game Siamo su Raffagemme quindi dai in teoria grossi problemi non ce ne dovrebbero essere Ipotizzo io sicuramente ecco già qua abbiamo capito che si stanno muovendo a caso Cioè solo dallo start ragazzi si è capito questo Si sta muovendo a caso Quindi dovrebbe essere molto easy E credo proprio di sì Ma perché niente Direi di passare alla prossima direttamente Seconda partita per noi Anche qua la comp mi sembra decisamente molto molto tranquilla Usiamo l'occhio non si sa mai Allora qua Bella per Ma tutte e tre nel centro Ragazzi è questo il modo giusto È questo il modo giusto per giocare Se quello che ha perso per colpa mia Ha giocato in questo modo Allora capisco Cioè nel senso potete avere anche la comp migliore del mondo Ma se andate tutti appiccicati nel centro Diciamo che non concludete assolutamente nulla Io nel dubbio lo dico ma Come se ne potrebbe dire Anche questi ragazzi Nel senso non È impossibile che possano farci qualcosa C'è Bull che qua letteralmente Non può passare mai nella vita Anche se Oddio in realtà Bull Devi stare calmo eh Devi stare molto calmo perché Oddio colpo di scena Sto scherzando ragazzi C'è stato il colpo di scena Usiamo nel dubbio il gadget Tanto bella per loro Vai muore Vabbè chissi In realtà abbiamo già recuperato E a noi sta bene così Dai muori Grazie bro Usiamo l'occhiolino Pighiamo tutto Andiamo Ritirata Scappa Corri fuggi Via show Conta la rovescia E in teoria dovremmo aver vinto 3 2 1 E anche la seconda è andata Devo ammettere che qua per un attimo ho avuto paura però Vado io a destra Niente all'ultima partita Lorenzo ha detto Cambiamo i nostri piani Mi piace Nel dubbio vado di occhio Ecco già la loro comp Mi sembra un po' più interessante Bisogna vedere come la useranno Ma abbiamo già 6.000 fk? No In realtà ci stava baitando Sì bro Faccio morire Bravissimo Là Boom Comp leggermente più interessante Ma il risultato non c'è Sono letteralmente ingabbiati là sopra Non passano Ma non si muovono neanche Ma che sta facendo? Lula Ma cosa sta guardando ragazzi? Ma c'è 8 bit Fer Ma è un troll 8 bit Ha fatto il cagaga all'ultimo Comunque alla fine dei conti anche questa è stata decisamente Ah È stata decisamente easy stavo dicendo Ed eccoci qua raga sulla mappa infame Come vi ho detto ieri il mio obiettivo sarà stare nel centro Sperare che Lorenzo e Scudella mi difendano al meglio Ah a proposito di Lorenzo e Scudella Ovviamente trovate il loro Instagram giù in descrizione Mi raccomando passateci Io per il momento direi che in un qualche modo sto tenendo botta Sarebbe bellissimo Anzi Scudella stacci te un attimo Visto che devo ricoprare vita io Ok Niente per il momento direi che sta andando raga C'è la piper che è un po' insistente Però riesco Oddio che è sta cosa? È il nuovo gadget di Bea Oddio non so cosa faccio il nuovo gadget di Bea Raga niente io sono qua nel centro Nessuno mi calcola Bellissimo Tranquilli spensierati come se nulla fosse letteralmente Per ora il nostro piano sta funzionando Lorenzo e Scudella come vedete mi stanno difendendo Scudella in realtà secondo me potrebbe andare anche un po' più avanti E questo è stato il compito del Frank Stare in mezzo e non fare assolutamente nulla Bellissimo Seconda partita Che poi io in realtà mi sa che non ho baluardo come star power Mi sono dimenticato di cambiarla molto bene Ma non credo che sarà comunque un problema Adesso qua vediamo se la gessi Riesco magari Oppure Emz Bravo Emz avvicinate così ta Gran bella mossa Emz complimentoni Vabbè niente io adesso sto nuovamente qua nel centro Esattamente come prima Lorenzo e Scudella mi difenderanno da davanti E basta io ho finito il mio game praticamente Anche se ho di occhio perché Lorenzo ci ha abbandonati eh Qua posso fare questo Posso sicuramente fare anche così Purtroppo non ha aiutato nessuno però devo cercare di temporeggiare Resistere tutte queste belle cose Resisti Raxor Ho cercato di resistere più che potevo Scudella ha buttato giù la pan perfetto Abbiamo ripreso il centro e dai è così Sì sì Eric ma tranquillo Sì sì vieni Eric non ti preoccupare Perfetto arriviate a questo punto Direi che è vinta E dai Ultima partita su dominio Stavolta abbiamo baluardo Quindi insomma la vita va a aumentare abbastanza E forse riusciamo a tenere un po' più di botta Quindi eccoci qua nel centro Per ora li vedo belli aggressivi 8 bit Una botterlina almeno gliel'abbia andata Bella per lui Uh E vieni così 8 bit No no resistere Raxor resistere Ma Marunne mie che bella bottazza di culo E notto di vita E anche questa raga per la partenza Secondo me si può fare Ottimo il gadget di 8 bit usato così Ma non ha funzionato Ah niente ragazzi Direi che è vinta Mancano 30 secondi Anche meno Qua non stanno letteralmente passando Io posso stare qua Laga pure Ma non c'è problema Stiamo qui fermi Occhio Ti tiro una bella bottazza Perfetto Dai 5 4 3 2 1 E daia Eccoci qua quindi su rapina La comp ovviamente è la stessa di ieri Vediamo un po' Come Ah Vabbè ragazzi Che cosa ho appena visto Oh mio dio Ma è successo veramente quello che ho visto Ma che stai a scherzare Allora io nel dubbio ti piazzo Il gadget di qua Qui vado immediatamente sulla cassa Tirare qualche bella bottrellina Purtroppo torno indietro Perché il gadget dice che io devo tornare indietro quando vuole lui Ma ragazzi ma che partita è questa Ma veramente Ma non ha veramente senso Cioè così Tranquilli Spensierati Come se nulla fosse Vado di ulti E l'abbiamo vinta Va bene Seconda partita Vediamo se sarà nuovamente così facile Oddio No di nuovo raga Come prima Ah almeno Ma cosa sto guardando Ma cosa sto guardando Bella per Air Bombardinoz Posso E dico posso Tirare qualche bella bottrellina Anch'io Metto il gadget Forza coraggio Vabbè tu Dai la mic ci fai a morire Gentilmente Bravissimo E purtroppo sto gadget Non riesco a sfruttarlo Nel modo giusto Che poi per carità Neanche ce n'è bisogno Perché in realtà Abbiamo vinto di nuovo il game Dai Terza partita per noi Allora La loro comp potrebbe anche starci Vediamo se fanno nuovamente Lo stesso errore Che stanno facendo sempre Tutti i nostri avversari Eh Già qualcosa di diverso C'è stato Qualcosa di diverso Assolutamente L'abbiamo constatato Io sono morto Praticamente Mannaggia Posso e dico posso Piazzare tipo il gadget Di qua Poi ci sarebbe il bombardino Che mi fa un po' di paura Oh Questa per ora Tra le tre mi sembra La più interessante Anche se per ora Problemi non ne abbiamo avuti Ma se non altro Dai gelindo Mori 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 gelindo Dai Vabbè per ora non c'è problema Ci va a morire anche il brocco Ottimo Bombardino là Non può fare assolutamente nulla E infatti Direi che Non sta passando Bella per lui Qua posso E dico posso Piazzare il gadget Andare a tirare qualche bella Mamma mia che bella Bottarella di Abbiamo tutta la vita Quindi dai forza 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 Sì raga Così mi piace Bellissimo Metto il gadget Ignoz nel dubbio Tiro qualche hit Niente Non serve tirare nessuna hit A gelindo Perché abbiamo vinto E dai E anche rapina Ce la siamo tolti Manca solamente l'ultima Ovvero ricercati La comp ovviamente è la stessa Che vi ho fatto vedere nel video di ieri Quindi io me la giocherò nel centro Dietro i muretti E cercherò di Insomma in un qualche modo Di coprire il tutto E fare robe La loro comp volendo ci sta Io qua sicuramente Posso prendere la stella Prima kill per noi fatta La piper mi preoccupa particolarmente Quindi io nel dubbio Sto sempre dietro i muretti Tanto non ho bisogno di strafare Anzi sarebbe davvero bellissimo Andare dietro No No Non mi prendo Lul No è morto l'ore Mannaggia Sarebbe davvero bellissimo Andare Mannaggia E qua ragazzi La cosa scomoda È la ulti di Di Iris Però c'è andato a morire così Bella per lui Molto probabilmente si starà farmando la ulti Grazie al gadget di Bo Direi abbastanza classica Come cosa Siamo comunque 12 a 3 Quindi nel senso fretta Non ne abbiamo Possiamo andare tranquilli Spensierati Come se nulla fosse Tant'è vero che poi Non abbiamo perso Manco una partita Dobbiamo fare 3 win E 3 sconfitte Quindi Dai poi poi facciamo unire E niente 12 a 10 Attenzione perché ci stanno recuperando Questi Mannaggia Ecco E questo gadget di Iris Effettivamente No dai Dobbiamo fare una kill Please Ce la faremo Uh grande scudella Dai raga Posto 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 Ritirata Abbiamo rischiato Ma fortunatamente Mamma mia Questa l'ho vista veramente male Che poi anche se l'avessimo persa Non sarebbe successo nulla Comp praticamente come la nostra Però anziché tic Loro hanno bombardino Diciamo che Questa mi sembra Più tranquilla Rispetto a prima Anche se poi Broxy va a morire Cioè Broxy Il bombardino Bella per lui Posso E dico posso Prendere questa La vado a prendere Bellissimo Il vantaggio diciamo Che per ora c'è Qua vado di ulti In teoria lo buttiamo giù Nel dubbio Gadget Eh non ho più il muretto in realtà Quindi attenzione Perché è stata un po' Controproducente come mossa Loro comunque Andranno a insistere Per forza Altrimenti hanno perso Se io bene o male Riesco a tenerli un po' distanti E riusciamo anche a fare Qualche kill Nel mentre Direi che è il top Il bombardino comunque Sta giocando malissimo Sta pushando sempre Troppo violentemente A caso Senza un senso logico Ed è giusto così Raga Bella per Broxy Che è andata a suicidarsi Niente raga In questo tempo Anche se moriamo tutti È impossibile Che riescono a vincere Non hanno proprio Modo fisico Per farcela Che poi in realtà Anche se fosse Non ci fanno neanche Quindi come se potrebbe Bainira Manca l'ultima Per ora Zero sconfitte E dai Ultima partita per noi Ecco abbiamo nuovamente Iris con Bo Quindi qua Bisognerebbe cercare di buttare Subito giù Il gadget di Bo Anche se ovviamente Non credo che sarà così Stupido D'andarlo a piazzare Eh infatti è piazzato Là sopra Quindi come faccio io A passare Per andare a romperlo Posso fare così Buono mi piace Molto bene Ok e questo L'abbiamo rotto Con una noscialance Incredibile È andata a piazzare L'altro Che vado a rompere Immediatamente Rotto con una noscialance Incredibile Vabbè se non hanno Il gadget di Bo Ragazzi è letteralmente Inutile È la loro comp È molto forte Ma in questo modo Non possono far nulla Prima sì È andata un po' Come è andata Ce la siamo giocata male Non abbiamo rotto Cioè più che altro Non ho rotto io Il gadget di Bo Ma adesso ragazzi Non c'è due No non c'è un Siamo 20 a 6 Mancano 35 secondi No No Il gadget Non è partito Mannaggia Ma non è un problema 23 a 9 Che sia mai Posso dire che sia mai Guarda qua Nel dubbio Ti butto anche la ulti Anche se probabilmente Me la butteranno giù Ma meglio così Dato che No qualcuno è hittato Ho fatto la kill Niente scherzavo Ragazzotti miei che dire Abbiamo vinto anche questa Zero sconfitte Io vorrei capire Come è possibile Che qualcuno abbia perso Con i consigli Che ho dato ieri Ma a noi sta bene così Quindi vittorina Tattica tattica Siamo a 12 win E ci prendiamo I 1000 punti stellari Complimenti Hai vinto la sfida Di brawl win Grazie mille brawl stars Quindi andiamo a riscuotere Immediatamente La skin di rosa Che Beh Come dire È molto bella E soprattutto Abbiamo anche Non so Ci ha dato anche 3 mot di rosa Molto belle Ci stanno Assolutamente sì Se il video vi è piaciuto Vi preoccupando un bel like Con iscrizione Campanellina Tattica tattica Noi come sempre Ci becchiamo alla prossima Con un nuovo video Bellissimo Grazie mille